Perchè sono, vedi, il numero uno, no, di un paese, come Iri, come tutti quelli che ci hanno stato, non preso una parte pure, non so abbucato nulla con vacca, canno so abbucca, no, perchè è meglio andare. San Mauro e Corleone. San Mauro e Corleone. Si guarda, cazzate, non ti preoccupi, 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 non ti preoccupi. San Mauro e Corleone. Solo per l'amico ***, l'amico *** sono io, io per l'amico ***, l'amico *** è lui. E' un'amico ***, è un'amico***, abbiamo messo una distruzione, un'********, sono un'amico******. Ma proprio guarda chi, ma non c'è un'amico***, perché non c'è un'amico***. E' un'amico***, l'amico***, è un'amico***, quindi siamo sangastro, ma ci sono un'amico***. Non so, non ci sono un'amico***, però non não, ci sono un'amico***, e noi non hanno questo aspetto. Avvio è un'amico***, ti amo. io ho cominciato a sbagliare la parola c'è capo bene non ti amo paese, non fai così vedi? va così io pure non ho sceppato il pugno sai? tu non lo viste a ristare ti ha vinto, ha vinto tutte cose vinto tutte cose vinto non te capiscio, non te capiscio vuole essere il padre pensavo non te capisci anche il padre non te capisci vabbè che padre totesa ah te p 없는ителей no, e questo il potere non male visi agita che va andata noch fa il pugno vieni dicchio rapido hai visto dommando apoi noi gli altri gli altri gli altri gli altri gli altri gli altri lui Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 E' un giusto, tu c'è qui nel rapporto. Eh, ma io posso prendere una voce sui uomini. E' piacere di andare in un'altra maniera. No, non c'è più che c'è, però. E' una nuovetta, allora, perché dovessi andare a prendere i vini?